Benvenuti a tutti, oggi siamo qui per una reazione ai voice play che suonano una cover di Nothing Hell Matter è stata consigliata da qualcuno di voi, io non l'avevo ancora sentita ho sentito qualcuno di loro in altre versioni di altre canzoni come Castellucci ad esempio, che conosciamo, sappiamo essere un basso eccezionale versione a cappella, ovviamente e vediamo un po' se vi avete consigliato bene anche stavolta ecco, ho sentito subito il basso di Castellucci effettivamente è eccezionale perché in questo caso rispetto all'inizio è sceso di un'ottava in questo basso comunque andiamo avanti ecco qua c'è da dire comunque che anche a livello visivo hanno preparato un bel set molto semplice tutti vestiti di scuro con le luci diciamo così molto ben curate beh ovviamente è un lavoro in studio quindi non è una cosa improvvisata ottimo dire anche quello ci va anche quello eh quando si è diciamo si crea qualcosa di artistico anche se si fa della musica piuttosto che altro se si riesce a sistemare anche tutto ciò che riguarda il resto la nostra performance ovviamente ne guadagna ogni aspetto ne guadagna quindi anche dei bravi cantanti se hanno una buona presenza scenica ad esempio rendono molto di più grazie a tutti è stato un attimo che torniamo indietro praticamente siamo arrivati a oltre un minuto di brano e ancora la parte cantata diciamo del testo non ha ancora cominciato quindi loro hanno ricostruito solo con la voce tutta la parte strumentale della canzone originale ovviamente tra l'altro l'hanno fatto molto bene quindi niente adesso partiamo col testo tra l'altro qui sentiamo un po' ecco avete sentito? quando si fermano tutte le voci e poi comincia a cantare il solista c'è un suono che sembra un basso in sottofondo probabilmente non credo che sia aggiunto elettronicamente che sia un effetto opposto ma probabilmente credo sia creato da Castellucci risentiamo e andiamo avanti quiet ecco so close no matter how far couldn't be much more from the heart forever trust in who we are prima stroppo avete sentito solo voce e basso ottima adesso entrano anche gli altri a fare da sottofondo perfetto è la 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 l'altro si è bene si ecco, di nuovo sono saliti insieme con la voce hanno fatto un crescendo nell'ultima, l'ultimissima strofa e poi hanno di colpo calato c'è stato di nuovo quel suono quella specie di basso che credo appunto sia fatto da loro che ha fatto partire la seconda parte di canto sentiamo di nuovo sentite il crescendo all'apice non c'è Scusate, faccio andare ad un'altra cosa Adesso che è partita la batteria, quindi beatbox Uno si aspetta che quindi il basso vada subito a incalzare la batteria per creare il groove di base Invece qui hanno rivoltato la cosa, direi ottima scelta Perché proprio nel momento in cui entra la batteria Il basso va a fare la voce solista, cioè il canto Direi ottima scelta Ehi Ehi Ottimo pezzo questo, perché di nuovo la musica scende, si placca sia la parte percussiva Perché rimane solo lo schiocco delle mani, delle dita E questa voce molto soffiata, quindi ha questa sensazione di leggerezza, molto più che le voci precedenti E quindi un altro bel movimento della melodia nell'arrangiamento fatto da loro Lo risentiamo subito, ottimo il pezzo della voce di basso che entra Poi avete sentito come la voce del cantante, in questo caso, è una voce molto rock Perché è un pochino, come si dice, è un pochino tra virgolette rovinata Come suono, non è pulitissimo, proprio come avviene nel rock Ed è ovviamente un effetto fatto apposta da lui Quindi sentiamolo, sentiamo l'attacco Sentite Avete sentito che acuto? Cioè, quindi, la varietà che possono offrire questi cinque, diciamo, performer Dalle note più basse, diciamo, umanamente raggiungibili, quelle di Castellucci A questo acuto, perché il cantante sta andando veramente in alto Molte ottave sopra al basso E quindi l'effetto è eccezionale Tra l'altro, piccola parentesi Quando si canta in questo modo È ovvio che, anche quando si fa dal vivo L'amplificazione della voce che fa il basso È più alta Il volume, ovviamente, di quello degli altri Perché quando uno fa un acuto del genere Sta urlando a pieni polmoni Quindi l'aria che emette è molta Quindi anche la potenza Quando invece noi dobbiamo pronunciare delle note basse Ancora di più, sono bassissime come queste Il fiato che esce è molto, molto minore Come pressione e come potenza Se no, non potremmo pronunciare toni così bassi E quindi, diciamo che il basso sarebbe completamente coperto Tra i toni più acuti degli altri cantanti Per cui è ovvio che si usano queste tecniche Ovviamente non è nulla di brutto Perché comunque è normale Quando si amplificano queste voci Ovviamente si alza normalmente Si alza il tono di chi fa le voci basse Se no, non sarebbero equiparabili Le due potenze Andiamo avanti Alla prossima Bellissimo sto passaggio Ve l'ho sentito come Sono saliti con la voce Molto E poi l'ultima nota è stata praticamente Così urlata Che il suono delle voci È stato paragonabile all'acuto del violino Bello questo effetto qua Sentiamolo E' stato un effetto di Castellucci questo qua Avete sentito? Si sentiamo Sembra di sì In ogni caso Ottimo È stato paragonabile all'acuto del violino È stato paragonabile all'acuto del violino E' stato paragonabile all'acuto del violino Ottimo finale Ovviamente Piccolo appunto Anche chi fa beatbox normalmente In gruppi come questo Ha un microfono più amplificato Di chi fa le altre voci Perché appunto I suoni emessi Per fare beatbox Che a volte imitano il charleston della batteria Piuttosto che il rullante O un piatto Sono giocoforza Meno Sparati E meno sostenuti Perché se sono tutte note brevi Non hanno una durata Paragonabile alle altre Quindi Per aumentare un pochino il tono Il volume Più che il tono Di questi suoni Normalmente Si tende ad alzare il volume Di quel microfono Come capita per il basso Ovviamente Sentiamo il finale Di quel microfono Ottimo il finale, avete sentito con una nota bassissima di Castellucci, nel corso della canzone come anche nel finale qualche frase è stata rallentata appositamente, questo serve per dare un po' di movimento anche alle parti di solito più monotone, comunque ottimo lavoro che dire, ovviamente dietro c'è un grande studio, delle grandi voci, sarebbe bello, mi piacerebbe sentire questa versione fatta loro dal vivo, però vedremo, la cercherò, lasciatemi dei commenti su questa esibizione, su altre magari loro che volete sentire, a cui volete che io reagisca, o anche su altri interpreti, aspetto i vostri consigli e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!